La strada della pace è la strada dei diritti umani, una strada che Antonio ha reso più larga, più aperta e accogliente. Nell'immagine della strada uscita di getto a Flavio Lotti, l'uomo della marcia per la pace di Assisi, anche lui fra gli amici, gli allievi radunati per l'ultimo saluto l'anno scorso, c'è tutto il magistero di Antonio Papisca. Fosse ancora sulla terra, questo 10 dicembre sarebbe il giorno del professore mite e instancabile che ha fondato all'Università di Padova il centro per i diritti della persona e dei popoli e ha retto la cattedra UNESCO in diritti umani, democrazia e pace. Ne è stato ovunque un alfiere tanto ardente da immaginarli sulla scena in carne ed ossa, così li raccontava due anni fa. Il nuovo diritto internazionale è quello che ha origine negli anni 1945-1948 con la Carta delle Nazioni Unite e con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Sono creature viventi, siamo noi stessi. Noi, diritti umani. Papisca ha sempre tenuto accesa la speranza di vederli incarnati sulla scena del mondo. Nell'Europa della finanza e della precarietà, della paura e della propaganda, il Master in diritti umani, ispirato da lui, coinvolge 41 Atenei europei e forma costruttori del progetto originario dell'Unione, spazio di libertà e giustizia sociale davvero possibile. Qui bisogna riprendere in mano il buon senso comune perché i politici, i governanti, sfoderino il coraggio di cui c'è bisogno oggi.